Silvio il grande! Noi abbiamo già pronto, noi abbiamo pronto un decreto legge e sarà la prima cosa che faremo se avremo noi responsabilità di governo per interventi diversi. Io negli altri passati sono, scusa, sono quello che ha aumentato tutto. Signora, a casa doveva rimanere lei? Sì, sì. A casa doveva rimanere lei? Questo è grande! Silvio il grande! Silvio il grande!